Secondo spazio del Bianco e il Rosso TV Sport con il mio ospite Davide Lattanzi 080 501 9998 il numero per intervenire in diretta. Davide continuiamo a parlare di mercato. Ieri proprio qui a Telebari avevamo anticipato l'arrivo di Rivaldo, peraltro un ex allievo di Vincenzo Torrente. Che informazioni hai su questo centrocampista paraguagliano? Ma poche. Ieri vedevo un forum di tifosi della Lazio che ne parlavano molto bene all'epore. Lui ha fatto un lungo periodo in prova alla Lazio e la Lazio era pronta a metterlo sotto contratto. Poi inspiegabilmente lui firmò a Venezia e da Venezia poi ha fatto tutto un giro. Però è sempre un giocatore che è stato stimato perché per esempio lo prese il Genoa, poi è arrivato al Gubbio da Torrente. Ha fatto questo gol bellissimo al Foggia e già per questo mi è simpatico perché altrimenti il Foggia sarebbe salito in Serie A. Però insomma al di là di tutto credo sia un giocatore che abbia comunque delle qualità perché è sempre stato appunto considerato. Mi preoccupa un pochino l'aspetto caratteriale perché se un giocatore può andare alla Lazio, poi da un giorno all'altro firma al Genoa, poi vince un campionato col Gubbio e gli era stato proposto un rinnovo di contratto importante a Gubbio e lui decide di tornare in patria. Io questo insomma mi preoccupa un pochino, spero che il Bari prima di metterlo sotto contratto ci pensi, ci ho menzionato. Ma è Enzo quello? Sì sì, è lui, è proprio lui. Anche lui sta nel Bari 2011-2008. Ha un po' di qualità, forse non è mobile, è mobilità di Vitelli Kutsov però per il resto. Davide, Rivaldo raggiungerebbe il ritiro forse o tra domani e dopo domani, ovviamente Torrente lo valuterà nel caso verrà messo sotto contratto. Sì sì, penso che ci vogliano parlare soprattutto sia lui che Angelozzi per capire appunto sia se è integro da un punto di vista fisico perché viene comunque da un anno nella Serie B argentina, sia quanto è motivato, quanto sia affidabile perché se poi dovesse prendere un'altra fuga, insomma, cioè è chiaro che bisogna avere giocatori, ripeto, con il fatto che sono solo 19 gli over 21, non si possono sprecare posti per giocatori che poi magari non si dimostrano affidabili o comunque che poi possono andare via da un momento all'altro. Avevo un ascoltatore in linea, pronto? Pronto? Buongiorno, Antonio da Bari. Ciao Antonio. Saluto il tuo ospite, saluto anche te. Vorrei farvi due domande, dove vorrei come sempre una risposta come voi sempre date, sincera. Quante possibilità ci sono realmente che i matarese vanno via da Bari? E la seconda è, ma secondo voi, con questa squadra di giovani, se si riesce a mantenere il centrocampo che ha ora il Bari, della Serie, Gazzi, Rivas, Donati, voi mettereste il Bari nella fascia Torino, Sampdoria? Secondo me sì. E poi un'altra cosa, io ho visto molti ragazzi, ho visto la presentazione, l'intervista che avete fatto voi, che finalmente vedo a Bari persone che sono onorate di indossare questa maglia. Un saluto, buonasera. Grazie, grazie per il tuo intervento. Allora, partiamo dalla seconda considerazione. Beh, io sono dell'idea che se il Bari dovesse trattenere i vari donati, Salvatore Masiello, magari anche Gazzi e Useclep, entrerebbe di diritto, Davide, tra le squadre favorite per il campionato di Serie B, sei d'accordo? Sì, sì, perché sono convinto che alla fine la qualità te la diano quelli della vecchia guardia, malgrado molti di noi non li vogliono più vedere nemmeno da lontano, me compreso, però è indubitabile che hanno una qualità superiore rispetto al campionato di Serie B, soprattutto perché negli ultimi anni la forbice tra Serie B e Serie A si è ampliata talmente tanto che un giocatore di media categoria in Serie A e in Serie B diventa importante. Quindi se il Bari dovesse avere un centrocampo Donati e Gazzi, a prescindere poi dal terzo che ci metti vicino, hai un centrocampo che probabilmente non ha nessuno in Serie B, forse neanche il Torino obiettivamente. Il Torino ha Iori, ha preso Vives, però obiettivamente lì avresti una cifra superiore al Torino. Quindi onestamente sì, ma faccio anche altri nomi, ovviamente ci metto Rivas che si aggiustasse un pochino la testa, oltre che se si aggiustasse fisicamente, è un giocatore che in Serie B può vincere una partita da solo. Purtroppo anche quest'anno è partito con dei problemi fisici, lo stesso Galano che stiamo guardando. Al momento c'è ancora Ghezzal che è un altro lusso per la categoria, anche se anche lui dal punto di vista caratteriale dovrebbe... Cioè è chiaro che abbiamo in questo momento una squadra importante per la Serie B, poi bisogna vedere chi resta, chi va via, insomma vedere come si compone poi l'assetto definitivo. A quel punto uno si potrebbe anche permettere il lusso di dire tutti questi giovani che abbiamo diventano un valore aggiunto, cioè se qualcuno esplode bene, perché se invece questi dovranno recitare il ruolo di da provo di vista, sei obbligato a sperare che esplodano e magari qualcuno... potrebbe non avere o le qualità o la personalità per affermarsi subito in questo campionato. 080 501 9998 il numero per intervenire in diretta. Davide, la prima considerazione invece del nostro ascoltatore riguardava il presidente Vincenzo Mattarese. Quante possibilità ci sono che possa lasciare la presidenza? In questo momento è difficile dirlo, forse siamo comunque arrivati ad un punto di svolta, però è difficile capire quando e come possa lasciare il Bari. Secondo me Mattarese l'ha già lasciato il Bari, io non parto da questo presupposto, cioè secondo me il distacco c'è stato ed è reversibile, perché in altri tempi Mattarese non avrebbe accettato così lo schiaffo di una retrocessione, non si sarebbe nascosto, non sarebbe fuggito, perché poi alla fine nessuno ci ha più parlato con il presidente. Però quello che non riesco a capire ancora è per quale motivo non si dica la portata dei debiti, visto che è stato detto che il Bari si vende a costo zero, allora perché non si dica la portata dei debiti del Bari per avere un quadro chiaro della situazione? E poi è importante anche per capire quanto missionerebbe investire per rilevare la società. Perché io sono dell'idea che ormai si sia arrivati a un punto di non ritorno, cioè i Mattarese vogliono andare via, però a questo punto perché non dire, cioè tutto sommato che male c'è, dire questa società è in questa situazione e a questo punto vogliamo tot per uscire definitivamente. Ti fermo un attimo perché abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto?